benvenuti benvenuti in questo mio nuovo video solide raccomandazioni iscrizione al canale iscrizione like commenti iscrizione anche al bar dei tifosi channel allora generalmente faccio dei video post gara analisi di calcio giocato che quello che apprezzo quello che mi piace di far di più ma a volte capita che in merito a magari vicissitudine di notizie magari possa anche decidere di fare un video con temi differenti che non sia proprio libero e proprio calcio giocato allora ci apprezziamo a praticamente a una settimana di fuoco dovuta più che altro a una sorta di accanimento come al solito nei confronti della nostra bene amata juve ma cominciamo con una notizia quella apparsa stamattina su alcune testate giornalistiche riportata dal sole 24 ore in primis che praticamente informa tramite un verbale della di una riunione della calcio che era stata informata in data 16 febbraio per lo meno metà febbraio quindi vale a dire due mesi prima della nascita ufficiale della superlega c'è da dire che della superlega se ne parlava anche anni e anni prima cioè mesi mesi prima anni prima se ne è sempre vociferato parlato in maniera un po aleatoria a febbraio di quest'anno è stata fatta insomma praticamente l'uffi data l'ufficialità prima alla federazione del contesto quindi parliamo della figicipitos che la lega calcio prima poi della dichiarazione ufficiale urbite ed orbi urbi ed orbi come si dice insomma metà marzo quando è stata adesso non mi ricordo esattamente aprile questo penso che sia successo anche nelle altre federazioni quindi quella tedesca spagnola francese inglese questo per andare a smantellare quella teoria che è stato come se fosse un golpe quindi dall'oggi al domani dalla sera alla mattina da parte ovviamente solo da chi da parte di agnelli e perez quindi questa è un'ennesima cazzata di quello che si dice spesso quindi la lega e la federcalcio è inutile che posso possano dire quello che vogliono però insomma sapevano già tutto a metà febbraio in maniera ufficiale questo è quanto quindi caccia alle streghe come al solito giusto perché ci siamo noi di mezzo altro argomento la fantomima stucchevole patetica protesta del dirigente della giudinese direttore sportivo marino che tira in ballo calciopoli addirittura insomma vecchie vecchie stupidaggini che erano già farsi all'epoca farsi ancora peggio 11 anni insomma 20 anni dopo più di 20 anni più o meno insomma 14 15 anni dopo allora è stata ricostruita da parte di mediaset quello che praticamente la il motivo per cui paratici ha non direi neanche protestato ha segnalato perché un conto è una protesta un conto è una segnalazione perché se fosse stata una protesta se fosse stata magari una una escandescenza da parte del nostro dirigente che ci sta che non dovesse trovarsi lì però poi al limite questo ci ragioneremo un attimo dopo l'arbitro kiffi avrebbe portato al referto magari delle parole o delle offese che aveva sentito anche perché era lì a un metro quindi non è qualcosa che avrebbe potuto sentire in lontananza era lì quindi non ha riportato nulla nessuna offesa quindi non si tratta di offese né tanto me ne minacce come qualcuno vuol far passare e all'inizio pensavo fosse appunto dato dal dal mancato recupero perché i giocatori di nese praticamente hanno perso un sacco di tempo nel primo tempo e aveva detto che avrebbe recuperato e però a fine a fine primo tempo praticamente il recupero era cinque secondi e stop e invece ha ricostruito in maniera impeccabile mediaset dicendo che c'era una di un disallineamento tra i cronometri del tabellone del della dacia arena quindi quelli in alto quello di riferimento praticamente dei calciatori e quelli invece che sono in basso sui cartelloni pubblicitari di anche un paio di minuti quindi sembrava almeno dai calciatori che avessero giocato addirittura un minuto in meno quindi 44 minuti infatti si vede ronaldo che indica 44 quindi 44 minuti e palatici ha fatto presente questo praticamente che addirittura si aspettava magari un qualche minuto di recupero giocare addirittura non un minuto in meno sembrava strano invece il cronometro ufficiale quello diciamo riportato in basso che praticamente non caga nessuno riportava esattamente 45 46 quanta era quindi palatici praticamente chiede questo né più nemmeno e invece sono venute fuori le solite ricostruzioni stupide da parte di soprattutto di youtuber da parte di giornalisti da parte gente che fomenta solo odio sa solo fare questo poi da parte di marino che ha tirato in mente calciopoli tra l'altro c'è una moviola che adesso vi faccio vedere questa qua di cesare in cui viene spiegato in maniera impeccabile qual è la la dinamica del fallo sul quadrato da cui poi scaturisce la punizione che ha dato seguito al rigore quindi un fallo assolutamente netto quadrato prende la palla tocca la palla prima del giocatore dell'udinese che gli frana addosso quindi aveva il controllo della palla per lo meno è arrivato prima sulla palla rispetto al difensore dell'udinese quindi fallo tutta la vita giusto allora ti faccio vedere se la seconda contestazione di pepeolo marino questo è un episodio tecnico una valutazione di kiffi che fa in occasione prima della punizione con cui la juventus poi ha pareggiato nasce da un contatto da un contatto così quadrato stigarlasse lui è molto molto vicino immediatamente alza il braccio destro indica la direzione della punizione quadrato rimane a terra e qui guardiamo guardiamo la scarpetta nera di quadrato che anticipa nettamente il giocatore dell'udinese anzi lo sposta con l'esterno del piede per rendere più agevole il controllo quindi lo toglie dalla disponibilità del giocatore dell'udinese che poi gli va addosso io a me sembra tranquillamente un fallo non ho nessun dubbio su questa situazione è questo questo ovviamente ha dato adito anche al figlio al buon figlio di un elemento insomma come all'era del rentis quindi il figlio che ha appunto detto che allora hanno annullato un gol regolare non l'ho visto e nemmeno frega tanto insomma di giudicarlo se regolare o meno e invece alla juve come al solito hanno dato un gol non valido questo dimostra veramente insomma una bassezza infinita anche perché non capisco il parallelismo perché cioè che centriamo noi con quella partita poi perché alimentare stupidaggini quando neanche sai di che cosa stai parlando solite stupidaggini solite cose diciamo da 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 censurare a priori infine la teatrino stucchevole di alcuni che addirittura prima della partita col benevento mi riferisco alcuni milanisti e addirittura si preoccupano del delle dei rifi dati che hanno portato in il risalto quello che è l'atteggiamento di parati c'è tra l'altro parati ci vorrei ricordare che non dove essere lì questo magari potrebbe essere anche una sua colpa per carità però c'era di fianco o perlomeno un po più in la diciamo tra lui è la e l'arbitro kiffi c'era un signore un signore che non si distingue bene ma poi insomma si è capito chi è e chi era era marino quindi alla fine separati ci non poteva essere lì e dovrà essere magari insomma punito perseguito non lo so diamogli anche l'ergastolo visto che siamo siamo per noi va bene uguale deve essere perseguito anche marino chiusa parentesi dicevamo cioè che addirittura alcuni milanisti si preoccupavano prima della partita del benevento che avrebbero sicuramente ammonite di fili di loro diffidati e quindi già mettevano le mani avanti addirittura due partite prima adesso in questa settimana stanno rincarando la dose su questo fatto fatto che sostanzialmente è praticamente assente inutile così come le loro tesi sono inutili fatte solamente insomma da teorie stupide teorie che non vale neanche la pena riportare quindi giochiamoci questa partita che venga il migliore come si suole dire come veramente si dice come veramente insomma c'è sposo come concetto e cerchiamo di fare meno polemiche perché sinceramente insomma il calcio è tutt'altra roba non è proprio quello insomma poi insomma a metterla tutta se incagnarla giusto per è veramente insomma c'è da calcio sporco la calcio insomma che non vale una pena neanche seguire quindi se voi siete convinti che c'è se volete ammere il fidenza se che è solito la juve ruba non seguite non seguitelo non seguite il calcio chiudete i canali andate a fare altro così almeno insomma non vi avvenenate il sangue perché se io dovesse accorgermi che c'è malafede o perlomeno come dite voi o perlomeno insomma c'è il calcio è tutto gestito è scritto a tavolino io non seguire neanche il calcio che che interesse ci sarebbe detto questo io vi saluto vi rimando al prossimo video fino alla fine sempre e solo forza juve